buongiorno benvenute e benvenuti siamo all'ultimo appuntamento dell'anno per quanto riguarda il nostro percorso percorso che si è articolato sostanzialmente nella rubrica di educazione civica cittadinanza digitale ma che poi si ha approfondito i temi di attualità che sono i temi appunto che trovate sempre nella stessa pagina perché trovate appunto sotto forma di intanto delle tre interviste incrociate con stefano penge sulle domande i problemi più frequenti che sono stati posti dai colleghi anche dal dibattito durante l'anno sulla didattica a distanza e sulla scuola di quest'anno l'incontro di oggi sarà diviso in tre sezioni ovviamente con uno spazio per il dibattito sulla destra in basso avete uno spazio per fare le domande le domande le potete sempre fare quello che io vi propongo è che ci saranno tre presentazioni quindi ogni presentazione poi ci fermiamo un attimo e raccogliamo le domande discutiamo insieme la prima presentazione è relativa a che cosa è successo la tesi è dobbiamo riflettere su quello che è successo per ragionare quello che faremo l'anno prossimo cioè sulla scuola dell'anno prossimo ma anche sulla scuola del futuro quindi la scuola del futuro è il primo punto dove siamo arrivati e dove potremo andare partiamo da una osservazione fatta da un collega proprio sulla tecnica poi verrà il momento di capire tutto questo con l'aiuto di famiglie e di ragazzi e quindi questo è il momento di cominciare appunto a riflettere allora da un lato non possiamo negarci tutti la complessità della situazione in cui ci siamo trovati in cui ci troviamo ancora per noi stiamo vivendo diverse crisi incrociate soprattutto abbiamo avuto a fare con una forte crisi sanitaria a cui si è affiancata una crisi economica che è quella che stiamo vivendo in modo particolare in questo periodo ma sta emergendo anche una crisi di carattere psicologico sia a livello individuale personale che a livello sociale c'è stata una crisi finanziaria che comunque ritornerà in crociata con un discorso di carattere politico e di carattere mondiale quindi geopolitico allora il tema che vorrei proporvi la tesi che vorrei proporvi che non deve cambiare solo la scuola ma deve cambiare anche il lavoro il mercato e il modello di sviluppo economico come dice bauman che definisce appunto una una globalizzazione selvaggia anche diciamo attraverso la rete sui muri di madrid hanno scritto non vogliamo tornare alla normalità cioè a prima perché la normalità era il problema quindi si tratta di ipotizzare anche un'altra realtà un'altra scuola come siamo partiti siamo partiti all'improvviso e senza preparazione cioè non c'è stato spesso il tempo di una discussione pedagogica in particolare negli organi collegiali che no di tipo collettivo non ce lo ha lasciato l'emergenza e quindi abbiamo dovuto comunque partire con quello che sapevamo con quello che avevamo è stato l'anno dell'emergenza nell'anno dell'emergenza a mio avviso sono emersi da un lato tutti i difetti dalla scuola e su questo torneremo dall'altra le competenze e la volontà dei buoni docenti e delle buone scuole che sono quelle che hanno retto la scuola durante questo anno particolarmente critico allora occorre pensare intanto la scuola del 2020 e 2021 siamo nei giorni in cui si deciderà sostanzialmente il quadro in cui ci muoveremo e dall'altra parte per fare questo dobbiamo riflettere su quello che abbiamo imparato dalla esperienza di quest'anno premettendo che a mio avviso la scuola del 2020 del 2021 quindi del prossimo anno non può essere la scuola del futuro se non può andare a regime come la scuola del futuro perché sarà ancora come vedremo una scuola della emergenza a mio avviso occorre condividere un senso in mezzo a tante proposte c'è stata molta discussione ognuno ha detto la sua sia a livello di colleghi di docenti di proposte di buone pratiche sia a livello politico se ne sta parlando molto anche in questo in questi giorni ma non sempre in modo proattivo cioè in modo costruttivo abbiamo fatto esperienze diverse concentriamoci su quelle più condivisibili maggiore in sintonia e quindi non solo ragioniamo su con che tecnologia con che piattaforma ma su che cosa ci faccio con quella tecnologia come ci lavoro e perché cioè di qua nasce un percorso didattico educativo coerente e contestualizzato in altre parole la pedagogia la didattica il digitale sono strettamente collegate fra di loro nelle scelte della scuola che abbiamo fatto e che andiamo a fare quello che ci dà la crisi però è la possibilità in mezzo a tanti drammi di pensare alla scuola del futuro che dovrà essere comunque una scuola nuova non possiamo tornare appunto alla scuola di prima diversa da quella del passato ma anche da quella della emergenza in questi giorni alcuni esperti parlano di una costituente della scuola altri parlano di stati generali cioè c'è volontà di almeno c'è per il momento volontà di tornare indietro e di riflettere sulla scuola del futuro allora sulla complessità della situazione cominciamo a vedere questo brevissimo video che vi faccio vedere che riguarda appunto il problema del covid no quindi del virus praticamente è una elaborazione fatta da google sulle domande più frequenti negli stati uniti relative man mano che si sviluppava il discorso della pandemia potete vedere lo faccio a scorrere una fase e poi da un lato che cos'è no e dall'altra cosa possiamo fare e quindi si sono affinate le domande che cos'è il coronavirus ripeto sono le domande più frequenti fatti su google negli stati uniti quali sono i sintomi come ci si può preparare come si può affrontare il discorso del coronavirus il problema delle mascherine come si fabbricano le mascherine cose che abbiamo vissuto anche noi c'è anche uno studio italiano molto più ridotto ovviamente fatto da un collega qui alla differenza tra i vari paesi per non farvi perdere tempo la bypassiamo un attimo ecco qui in generale siamo arrivati a marzo e le domande si mescolano tra la situazione la crisi generale e i sintomi e i trattamenti no che come ci si può attrezzare come si può preparare no e l'impatto economico quindi problema poi dell'occupazione della disoccupazione le risposte del governo e le 15 stanza c'è diciamo un incrociarsi no ma anche un modificarsi delle diverse fasi del delle domande rispetto alla pandemia che cos'è la pandemia il problema della disoccupazione no che abbiamo affrontato anche noi questo come sapete una legge della 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 degli stati uniti quindi non ci riguarda relativamente poco ecco allora c'è stato un impatto sia personale che pubblico e che come vedete questo è stato scomposto no per la seconda della leggenda che vedete in basso a destra è un po la nostra è un po una linea del tempo sul problema della della febbre insomma nel controllo della febbre è un po una linea del tempo della sanificazione e però attraverso le domande fatte appunto a google questo lo facciamo vedere perché a un certo punto alla fine tireremo un paio di conclusioni è sempre il confronto fra i vari paesi che siamo arrivati allora a questo a questo punto quindi questa parte ecco io vorrei attirare la vostra attenzione su due cose uno appunto abbiamo rivissuto in pochi secondi quello che abbiamo vissuto noi dentro di noi nella nostra sfera emotiva dall'altra parte quanto sa google di noi perché non solo cattura i nostri dati 82 dati sensibili ogni volta che ci colleghiamo google ma quanto riesce a ricostruire per esempio della nostra storia della storia sociale a livello mondiale allora noi lavoreremo per evitare il discorso delle opinioni sui dati appunto della scuola italiana sulle posizioni e le opinioni dei docenti sui dati della agicom che tratta del digitale a scuola cioè la situazione digitale a scuola sulle posizioni dei docenti dei dirigenti scolastici e anche degli allievi e poi ovviamente sui documenti che troverete non già domani domani troverete le presentazioni che stiamo discutendo adesso ma nell'arco di un paio di giorni troverete tutta la documentazione anche gli atti del ministero della task force e così via allora cominciamo dai dati della scuola allora nella scuola in questo momento noi abbiamo 8.000 scuole 40.000 circa 41.000 sedi 370.000 classi 7 milioni e mezzo abbondanti di alunni di cui 260.000 disabili 788.000 stranieri quindi distinguiamo 2 milioni e 6 delle superiori e vedremo che questo ci serve e siamo 8.300 scusate 835 489 docenti quindi oltre 800.000 docenti di cui 150.000 lavorano sul sostegno allora questo esperto lì avete il link potete andare a consultare tranquillamente l'articolo lavorando su dati dell'istat sugli spazi in casa e la disponibilità di computer per bambini e ragazzi ha rilevato appunto che ci sono state una serie di criticità per esempio le famiglie che non avevano attrezzature non avevano il computer e la computer la didattica a distanza ma anche il divario fra nord e sud nell'avere le attrezzature a casa questo sia per quanto riguarda le scuole che per quanto riguarda i ragazzi ci sono stati problemi di accesso alla rete cioè di banda ci sono stati problemi legati alle competenze digitali dei ragazzi cioè i famosi nativi digitali in realtà io ho sempre detto che non esistono ma si è dimostrato che non esistono cioè 2 su 3 di loro non sa usare bene le tecnologie non ha un'idea intanto di che cos'è la didattica a distanza ma non sa usare neanche google perché non va oltre la prima pagina non distingue la pubblicità dai risultati veri e propri e così via c'è stato un sovrappollamento a livello abitativo e di organizzazione degli spazi fra bambini magari in certe famiglie 3 o 4 bambini che facevano differenti attività di didattica a distanza e magari uno o due genitori che facevano il lavoro appunto leggero da casa allora le domande di trovato sono sostanzialmente queste sono un punto di partenza ricordatevi sempre che voi potete scrivere e ricambio i saluti o degli amici insomma che mi stanno salutando ma potete cominciare poi a scrivere le domande o casomai appunto dei temi e gli interventi ci fermeremo alla fine di ogni presentazione avremo circa un quarto d'ora per discutere e rispondere le raccoglierò tutte insieme allora è stata un po' la fine della lezione frontale questa esperienza o è stato un camuffamento? la classe virtuale è il nuovo oppure è il vecchio che si è mascherato un po' ci siamo accorti del fatto che è cambiato il ruolo del docente meno depositario dei saperi ma dall'altra parte invece più organizzatore animatore tutor e così via che formazione hanno i docenti hanno dimostrato i docenti rispetto alla didattica a distanza e che cultura digitale hanno dimostrato sia i docenti e i ragazzi che le famiglie il suo suggerimento sarebbe di riprendere i curricoli delle indicazioni nazionali del 2018 io direi anche con uno sguardo su le due le indicazioni nazionali del 2012 è stato necessario riconfigurare gli ambienti di apprendimento la classe come laboratorio sperimentale trasversale in un tempo scuola modulato ha funzionato o no ci siamo accorti dell'importanza di figure intermedie come gli animatori digitali, i tecnici nelle superiori, i tutori e così via c'è stato il problema di quelli che abbiamo lasciato indietro, dei bisogni educativi speciali, dei disabili, tutte le situazioni di carattere più critico che analizzeremo allora qual è il valore aggiunto della didattica a distanza che è una cosa diversa, lo diciamo subito, dalla didattica digitale e poi i problemi legati alla edilizia allora che cosa pensano i bambini? Cominciamo questo lo scorriamo velocemente perché voi avrete il tempo poi di leggerlo ma in realtà è un piccolo campione, dice tu stavi in classe con i tuoi compagni, ti erano vicini, adesso invece sei, sono distante ecco ti dispiace e la maggior parte di loro come vi ho detto ha risposto sì ci sono anche dei vantaggi nel fatto che alcuni compagni siano distanti e questa dice qualcuno è meglio tenerlo lontano perché c'è uno che combina guai, si distrae, disturba, chiacchiere eccetera eccetera i tuoi insegnanti per qualcuno è uguale ma la maggior parte se ci può consolare dice abbiamo avuto nostalgia, insomma ci mancavano, li preferivamo vicini ci sono dei vantaggi sul fatto che gli insegnanti siano a distanza, qualcuno dice sì a distanza non ci possono sgridare oppure sì quando ti alzi non se ne accorgono neanche quindi questo ci dà anche un po' l'idea delle dinamiche perché poi sono successe una serie di dinamiche per esempio gente che in qualche modo si assentava dalla lezione, qualcuno che disturbava la lezione e così via allora la quinta domanda riguarda l'interferenza fra famiglia, cioè l'avere un triangolo dove c'è famiglia, scuola e quindi i docenti e dall'altra parte i compagni preferisci fare una scuola nello schermo o preferisci andare in classe? la maggior parte evidentemente risponde che preferisce andare in classe però qualcuno dice nelle videochiamate stiamo un po' più in silenzio, facevamo chiasso invece in classe eccetera e qualcuno ritiene che le videochiamate siano un aspetto almeno positivo perché visto che c'è stato il virus almeno siamo riusciti a evitare di non vedere per niente i nostri compagni e la nostra maestra allora qui siamo in una situazione invece di ragazzi di intermedi vi potete poi vedere questo video è un video dove si mandano dei saluti dei bambini piccoli qualcuno si è lamentato del fatto che gli insegnanti non si mettevano bene d'accordo e alla fine davano troppi compiti da fare a casa dice all'inizio era un groviglio di voci che si sovrapponevano e si passava più tempo a dire mi sentite funziona o non funziona poi dagli errori si è imparato in realtà quelle critiche presenti sono sempre seguite da un macio alla fine i docenti e la volontà di tutti si è riuscito a fare uno sforzo per far funzionare questa situazione critica qui rispondono quelli un po' più grandi i ragazzi si sono resi conto della frattura digitale cioè del fatto che alcuni compagni non avevano la connessione non avevano attrezzature adeguate e così via il problema principale è per qualcuno dice io ho tre fratellini ogni mattina dobbiamo contenderci le stanze della casa urla, litigate, solite postizioni io in camera, mia sorella in sala da pranzo mio fratello da un'altra parte io mi sveglio perché sento la voce della maestra di mio fratello cioè praticamente racconta un po' la vita e poi si conclude con qualcuno che chiedeva a distanza professoressa posso andare in bagno oppure che diceva professoressa mi sono distratta allora vediamo ancora velocemente i più grandi questa è un'indagine con migliaia e migliaia di ragazzi negli ultimi due mesi è letteralmente lievitato il numero di ore che i ragazzi hanno passato online il 25% dice che è sempre stato connesso gli iperconnessi che noi abbiamo sempre considerato a rischio di patologia oltre le sette ore noi abbiamo pensato che erano ragazzi ecco allora la fetta più consistente in didattica a distanza il 54% ha trascorso tra le 5 e le 10 ore al giorno attaccato a un computer un'altra indagine che riportiamo qui sotto è questa che su 5.000 giovani fra i 14 e i 20 anni il 24% è rimasto connesso con la scuola in media 3 ore al giorno il 26% si è assestato sulle 4 ore il 20% sulle 5 ore il 18% è andato anche oltre quindi siamo stati ai limiti della dipendenza patologica allora chi ha deciso come cominciare in realtà io credo che nessuno di voi abbia avuto delle forti impostazioni dall'alto cioè il ministero in realtà è intervenuto dopo quindi si è partiti un po' da soli e oggi si è assestati dopo una fase 1 su una fase 2 che era quella di appunto di un mantenimento di quello che si era riuscito a costruire in questi mesi di isolamento la didattica a distanza si è rivelata una soluzione di emergenza dicono i presidi all'improvvisa sospensione delle attività didattiche e la didattica a distanza è comunque una metodologia nuova il ministero dell'istruzione doveva più rapidamente fare degli interventi di supporto e dare delle indicazioni per una programmazione diciamo comune che poi veniva contestualizzata nelle varie scuole ed è uscito come vedete poi la nota protocollo 388 di quest'anno sono stati poi stanziati 85 milioni di euro lo sapete credo meglio di me il 17 marzo 10 milioni per perché le scuole si attrezzassero di piattaforme e strumenti digitali 70 milioni per mettere a disposizione degli studenti ma incomodato d'uso dei dispositivi digitali quelli che non le avevano c'è il problema di una prima parte della frattura digitale 5 milioni per formare il personale scolastico io non so se quante scuole sono riuscite a organizzare in mezzo a tutto questo organizzare anche una formazione che poi era a distanza per quest'anno per quest'anno la possibilità è stata quella di assumere mille assistenti tecnici ma poi bisognerà capire se ci saranno ancora l'anno prossimo infine per quanto riguarda le dotazioni è stato stanziato all'interno del pacchetto nazionale di 55 miliardi 1,4 miliardi per scuola nella manovra ma articolati in due anni allora c'è stato un problema di rilevare la partecipazione e la soddisfazione dei diversi protagonisti c'è un problema di rilevare le competenze dei docenti, degli allievi e dei genitori c'è un problema di distinguere fra le competenze di didattica a distanza dalle competenze digitali uno degli slogan che ripeterò è che didattica digitale e didattica a distanza non sono la stessa cosa e ancora meno è mancata si è dimostrata la mancanza di una cultura digitale cioè di una conoscenza di quel web che andavamo a utilizzare in modo strumentale l'altro problema di cui parleremo sono le piattaforme allora ancora i presidi dicono la difficoltà di molti istituti ad avviare le attività ma anche quelli che sono riusciti a partire a mantenere una coerenza organizzativa della didattica a distanza una mancanza di qualità uniforme sul territorio nazionale quello che la ministra Azzolina ha definito una scuola a macchia di Leopardo la mancanza di un dispositivo individuale per ogni studente della secondaria che è comunque una parte della frattura digitale la insufficienza, la connessione della banda noi siamo arrivati al punto che per poter continuare a lavorare sia da casa che da in didattica sia i genitori che in didattica a distanza abbiamo dovuto chiedere ad esempio a Netflix di diminuire il suo uso della rete cosa vuol dire? abbiamo scoperto che la banda cioè la rete a disposizione è una cosa finita come l'acqua non come l'aria che continuiamo a respirare perché quindi quando noi la usiamo troppo la usiamo tutti 4-5 persone della stessa famiglia si rallenta al punto da non riuscire più a funzionare allora viene fuori un discorso che voi avete trovato se avete avuto già la possibilità di vedere i tre video che sono una diciamo un dialogo incrociato con Stefano Penge che è uno dei massimi esperti di didattica a distanza perché fa quello di mestiere abbiamo incrociato i temi più critici noi più dibattuti nel dibattito e una delle cose che dice Stefano Penge è ora di pensare a una ecologia cioè è inutile per esempio stare collegati in cento quando in realtà sono soltanto in tre quelli che sono interessati e che parlano è inutile tenere il video di tutti quando in realtà sono tre persone quelle che parlano perché altrimenti si abbassa ovviamente la banda e la velocità c'è un si è verificato un basso livello medio di competenze digitali e di didattiche allora da un lato dobbiamo fare conti col mondo web in cui viviamo la complessità ma anche il ruolo della informazione e su questo vi propongo di vedere rapidamente ma questo è un progetto partito dalla compagnia di San Paolo e da un gruppo di di studiosi sul ruolo dell'informazione quanto l'informazione ne vediamo soltanto alcune ma voi potete tranquillamente continuare la prima pillola parla del fatto che c'è stato un caos informativo cioè diffusione di notizie e informazioni non verificate che chiama infodemia un elemento di peroculosità sociale paragonabile a quello di un'epidemia vera e propria cioè da un lato c'è stato la diffusione di diversi studi in contrasto fra di loro sul fenomeno che ha aumentato molto rapidamente la diffusione di fake news e quindi ha preceduto ancora il contagio con una diffusione di fake news che hanno disorientato ovviamente gli utenti dall'altra parte c'è stata la diffusione di notizie da parte di fonti non attendibili per cui la gente non sapeva più a chi credere è un po' il problema delle fake news che riprenderemo che abbiamo trattato durante l'anno e che riprenderemo prossimamente allora un altro problema è stato il ruolo degli organi di informazione perché ci sono state delle fonti affidabili ma ci sono ed è difficile distinguere le fonti affidabili quando c'è un rumore di fondo cioè quando tutti intervengono e dicono la loro capire che sta dicendo una cosa che ha un'utilità è che seria come nel discorso delle fake news e chi invece sta soltanto facendo rumore confusione la cosa migliore sarebbe parlare meno io durante il tempo da quando è cominciata la crisi ho pubblicato un articolo all'inizio in cui dicevo ai colleghi ce la potete fare è una situazione di emergenza poi due o tre frasi le recuperiamo nell'ambito della presentazione è una situazione di emergenza fate quello che potete non c'è una soluzione uguale per tutti affidabile eccetera però quello che fate voi va bene nel senso che siete in grado di affrontare questa emergenza ed è comunque un'emergenza quindi fate quello che potete ci torneremo poi sono stato zitto perché è diventato pubblicare in continuazione noi le idee di tutti allora non si può non tener conto dei vari attori coinvolti in questa confusione gli organi di informazione non sono sempre stati in grado di trattare le notizie in modo scientifico e opportuno e questo ha portato da un lato a giornali eccetera che sparavano titoli e toni sensazionali che erano quelli che catturavano ma creavano panico ma facevano vendere dall'altra poi un invito a minimizzare noi in questo momento forse stiamo un po' minimizzando ma va bene così se riusciamo a calmarci un po' teniamo conto che l'informazione ha una influenza fondamentale sul modo di vivere a livello emotivo le informazioni come dicevamo ma anche nelle interviste anche i medici e gli esperti a un certo punto sono entrati in questo loop di un caos informativo cioè è stata un po' una mancanza di un sistema informativo e di una comunicazione istituzionale in grado di interpretare la complessità e anche l'incertezza della situazione non sappiamo ancora tutto e non sapremo forse neanche mai tutto possiamo sapere se va un po' meglio sono un po' peggio allora l'eliti fra gli esperti su twitter alla televisione e così via l'eccesso di esperti che si pronunciano spesso in modo non istituzionale spesso in modo in contrasto fra di loro la scarsa attenzione al contesto di parzialità dei dati ha creato un pubblico confuso chi diceva mettete le mascherine adesso ci stanno dicendo ma le mascherine magari non sono del tutto necessarie e non sono sempre necessarie questo ha provocato un calo di fiducia nei ricercatori e una scarsa attenzione alle notizie scientifiche quelle diciamo provate e ad aspettative altissime verso gli scienziati in una prima fase e poi invece in qualche modo oggi siamo verso un calo della fiducia negli scienziati allora riprendiamo un attimo il nostro discorso qui troverete quel mio articolo vi faccio vedere due video alcuni di voi l'avranno già visti non sono nuovissimi ma servono a farci riflettere su una cosa che è ovviamente è un video belga un mago finge di fare un programma televisivo grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, devo fare un po' d'ordine. Grazie a tutti. Allora, l'altro è un altro piuttosto conosciuto, ma comunque... Allora, l'altro è un po' d'ordine. Allora, devo fare 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 un po' d'ordine. Allora, posso fare un po' d'ordine. Ok, allora perché abbiamo visto questi due video? Perché in realtà, qui stiamo scherzando, ma questa realtà esiste. Allora, cosa ci interessa, cosa c'entra con l'argomento di oggi? Ci c'entra per due motivi. Il primo è che la cosa principale che noi dovremmo fare utilizzando queste tecnologie è quella di costruire una cultura del digitale, cioè come funziona il mondo web in cui viviamo e insegnarlo ai nostri ragazzi. La seconda cosa è che i dati sensibili sono parte della didattica a distanza e su questo è intervenuto il garante della privacy. Sì, chiedo alla tecnica se va meglio l'audio. Era l'audio del video, ah ecco, l'audio del video si è sentito male. Vi chiedo scusa, le potrete rivedere. Allora, come siamo arrivati a questa situazione? Noi abbiamo avuto per decenni diversi ministri che ogni ministro si è portato dietro uno strumento digitale, dalle 3i alle classi 2.0, alle limma alle classi 3.0, il coding eccetera eccetera. Ogni volta c'erano dei corsi di addestramento voluti dal ministero ma relativi a queste attrezzature. Queste attrezzature sono state scelte e oggi possiamo parlare delle piattaforme dietro la spinta delle industrie, degli esperti di turno per moda. O come dice Gui che ha scritto un bellissimo libro, il digitale a scuola, facendo la storia del digitale nella scuola e del fatto che non è cambiato molto col digitale nella scuola, ma sono emersi invece una serie di riflessioni importanti, scambiando la innovazione per progresso. Cioè quello che è nuovo è meglio di quello che è vecchio. Allora a parte appunto il fatto che si sono spesi un sacco di soldi, il calcolo è intorno ai 2 miliardi. Cioè noi abbiamo speso 2 miliardi per introdurre nella scuola tecnologie non costruite per la scuola e che a posteriori non hanno dato un risultato soddisfacente e significativo. E su questo esistono una serie di studi. Ci sono ancora lì 4 milioni in sospeso che probabilmente spero che siano riutilizzati per darvi una mano nella didattica a distanza, perché si voleva rifare l'ennesimo corso sul coding. Certi colleghi, se gli parli di coding, cominciano a dare di matto perché non ne possono più. Ci sono 4 milioni per introdurre quella che dal primo di settembre dell'anno scorso doveva essere l'educazione civica. Questo comunque non ha cambiato nella scuola, non ha costruito una cultura del digitale che è quello che in questo momento manca sia ai docenti che ai ragazzi. Abbiamo già letto che i presunti nativi digitali in realtà non ne sanno più di noi, non sanno usare correttamente Google, non sanno usare la rete, rimangono chiusi in una stanza di un social network e così via e quindi confondono la parte per il tutto e stiamo insistendo sull'intreccio fra tecnologie, competenze e metodologie didattiche. Allora, dicevamo che un 43% secondo l'Agicom di docenti è abbastanza attrezzato rispetto all'uso del digitale. In realtà, probabilmente possiamo ragionare in base a una serie di studi sul fatto che un 30% dei docenti circa ha una buona base digitale e sono quelli di competenze digitali, sono quelli che hanno tenuto la scuola in piedi, facendo anche da intermediari con gli altri e così via. Un 20% insiste nel dire non lo conosco ma non mi piace e quindi va avanti con la lezione frontale e così via e un 50% come vedremo in un altro studio in realtà fa delle attività una volta alla settimana, usa prevalentemente il registro elettronico e così via. Allora, noi abbiamo evidenziato nella crisi una scuola che è stata ridotta all'osso e abbandonata a se stessa. Se pensate alle riforme dalla Moratti in particolare, poi soprattutto alla Gelmini-Tremonti. Allora, la riforma Gelmini-Tremonti era stata fatta per prosciugare dalla scuola 6 miliardi. Ha risparmiato 6 miliardi eliminando investimenti sulla scuola ma eliminando, ad esempio, il 25% delle cattedre di lettere nella scuola media. È mancata una regia nazionale in questi anni e soprattutto quest'anno. Allora, sono stati i bravi docenti che hanno tenuto in piedi le scuole, le buone scuole, anche i buoni dirigenti che hanno tenuto in piedi le scuole nella situazione di crisi e di emergenza. E questo, come vedremo, lo riconosce anche il Ministro. Quando parlo di bravi docenti, non è una captatio benevolenza. Gli studi OXI del 2014-2015 dicono che le tecnologie di per sé non hanno modificato dalla qualità dell'insegnamento-apprendimento, mentre i bravi docenti con metodologie varie sì. Quindi l'ideale è che bravi docenti abbiano buone tecnologie. E allora usciamo dalla situazione di macchia di Ropardo. È emerso il problema della privacy, dei dati sulle piattaforme, i dati dei ragazzi e delle famiglie. È emerso il problema della frattura digitale e la frattura digitale è composta, nel senso che c'è chi ha e chi non ha le tecnologie, chi ha e chi non ha la banda, ma anche chi ha e chi non ha le competenze, docenti, ragazzi, famiglie, per aiutarli. Allora, la didattica a distanza è stata un'integrazione dell'emergenza, non una scuola nuova. E quindi ha portato in evidenza un po' tutti quei difetti della scuola che conoscevamo, perché sulla scuola, come su una serie di servizi pubblici, non si è investito in questi anni. Importante continuare a insistere sul fatto che la didattica a distanza e la didattica digitale non sono la stessa cosa, la didattica in presenza è quando insegnanti e ragazzi sono nello stesso spazio e nello stesso tempo compresenti, cioè in classe. Ma se io dico ai ragazzi andate a casa e leggete i tre capitoli del diario di Anna Frank, quella è didattica a distanza, cioè loro non la fanno in classe come la fanno per i fatti loro. Quindi la didattica a distanza e l'uso della didattica digitale nella scuola sono due cose diverse. Le competenze e la cultura digitale a scuola non hanno attecchito, sono venuti fuori due cose che mancano nella scuola. Il discorso del progettare per competenze, quindi lavorare in modo attivo, in modo laboratoriale e così via. E dall'altra parte il fatto che la cultura digitale, nonostante i trent'anni di corsi di aggiornamento, non sia ancora costruita nella scuola. Per fare un progetto formativo devono esserci non necessariamente compresenti i docenti e i discenti. Dall'altra parte ci si è affidati con entusiasmo a delle tecnologie, ma questo risponde a soluzioni praticabili per un periodo limitato, per non ridurre del tutto la scuola in particolare, anche per i più piccoli soprattutto. Ma solo il rapporto virtuale con lo schermo evidentemente non basta. Non possiamo pensare che il digitale risolve, il computer, le tecnologie risolvano i problemi, per esempio della relazione, per esempio dello stare con i compagni o di stare con la maestra e quindi di evitare la dipendenza. Sono venuti fuori, come dicevamo, una serie di problemi di carattere tecnico che riassumeremo. riassumeremo, poi le stiamo concludendo e quindi facciamo un po' il riassunto, poi una pausa di discussione. Stefano Penge, lo conoscete quelli che hanno visto almeno l'intervista che abbiamo fatto con lui, ha postato questa fotografia, dopo dieci ore al computer gli è venuta la testa quadra. Sulla destra docente o genitore, è un po' sadica questa soluzione, ma a un certo punto i docenti dovevano poi fare anche i genitori. Dall'altra parte come si fa a tagliare da scuola, tagliare, bigiare, insomma poi nelle varie regioni si dice in modo diverso. E questi hanno messo una fotografia di fronte alla camera. Questo video è girato, viene dalla Spagna e mentre la professoressa fa lezione in videoconferenza passa suo marito in mutande e così via. I vecchi docenti di cui parleremo, questo vecchio docente dice ma i miei studenti ancora non si sono connessi. E la moglie casalinga gli risponde ma guarda che quello è il forno a microonde. Dall'altra parte l'insegnante è quella che ha dovuto affrontare un po' di tutto. Moriremo tutti, posso andare al gabinetto, professoressa con tutti questi compiti, professoressa vi è arrivato il file ma io ho finito i giga, come si invia una mail e così via. Non so se qualcuno di voi si riconosce, poi scorreremo le domande e gli interventi e quindi risponderò a tutti i vostri interventi. Allora, Riccardo Luna che è uno di quelli che se ne intende di più in Italia dice attenzione facciamo i conti con chi ci ha guadagnato. Quelli che Rampini chiama i cattivi padroni della rete che sono Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft sono improvvisamente diventati buoni e ci regalano le piattaforme. Teniamo conto che intanto in questo periodo hanno guadagnato 500 miliardi in borsa durante la crisi e che Amazon si è fatto i soldi facendo perdere 200.000 posti di lavoro perché ha fatto tutta una serie di consegne a domicilio che prima andavamo in negozio. Allora, è un problema di solidarietà o di marketing? Vi risparmio, anzi forse è meglio che la vediamo, la vetrina. Ecco, allora questa è la pagina del Ministero dell'Istruzione. Quando si parla di piattaforme vi propone la piattaforma di Google, quella di Microsoft, quella di Team e prima ancora c'era anche quella di Amazon. Quindi in realtà il Ministero sta facendo la pubblicità di Amazon. Allora, su questo e sui problemi di privacy è intervenuto il garante della privacy tre volte, due volte in generale e quindi non perdiamo tempo per questo. Ma per quanto riguarda le istituzioni scolastiche universitarie dovranno assicurarsi che i dati trattati per loro conto siano utilizzati solo per la didattica a distanza. E dall'altra parte è ribadito il principio che c'è correttezza, quindi legittimità della scuola nel trattare i dati personali pur che questi siano coerenti e non eccedenti con le sue finalità, cioè fare scuola. Il medesimo principio si applica alla didattica a distanza. Il trattamento di dati svolti dalle piattaforme per conto della scuola e dell'università dovrà limitarsi a quanto strettamente necessario alla fornitura dei servizi richiesti ai fini della didattica online e non per ulteriori finalità proprie del fornitore, leggi Google eccetera eccetera. Allora c'è stata una preside visto che Google, Facebook e questa gente vive succhiando i nostri dati sostanzialmente e vendendoci delle cose, c'è stata una preside che ha bloccato il contratto con Google perché Google fa i contratti con le singole scuole che vengono firmati dai dirigenti scolastici ma non li controfirma. Quindi non c'è nessun valore legale e la scuola non può mettersi contro Google che ha già Google, Amazon, tutta questa gente qua ha già sfidato ampiamente il governo degli Stati Uniti, Twitter sta sfidando il presidente degli Stati Uniti, la magistratura, l'FBI, la CIA eccetera. Quindi del istituto comprensivo di Trofarello, se ne frega, allora è dovuto intervenire Soro che ha scritto alla ministra Azzolina dicendo gli istituti scolastici hanno sinora provveduto ricorrendo a soluzioni tecnologiche offerte da vari fornitori non sempre caratterizzati da garanzie adeguate in termini di protezione dei dati personali. Quindi consiglio piuttosto di tornare al registro elettronico o di usare piattaforme pubbliche e non piattaforme private a pagamento. Tutte le azioni messe in campo dai buoni docenti in questo periodo sono state una meritoria opera di supplenza e di disponibilità di idee. È oggettiva la difficoltà dei docenti a conservare ovviamente nel tempo questa prospettiva laboratoriale partecipata e è stata un po' la parte più difficile credo per voi da sviluppare, i laboratori, la partecipazione e così via. E come dicevamo prima se è vero che il 43% degli insegnanti usa le tecnologie soltanto 1 su 5 usa un lavoro collaborativo a distanza e meno di 1 su 10 gestisce attività progettuali a distanza. Taglio un po' ma comunque è necessario vedere che non c'è bisogno di dare tanti consigli agli insegnanti, si trovano in rete una serie di consigli. Quindi il MIUR ha emanato delle linee operative ma il consiglio principale resta comunque quello di non esagerare, di non esagerare con le ore, di non esagerare con quello che vogliamo fare. Teniamo conto che siamo in una situazione di estremo limite. Allora la scuola di quest'anno è stato un grosso sforzo di invenzione, sarà ripresa nella scuola che verrà nel prossimo anno ma non sarà la scuola del futuro perché non sarà la scuola della normalità. Gli esperti di tecnologie ci parlano appunto del fatto che da un lato ci sono problemi hardware software e infrastruttura, dall'altro ci sono problemi di competenze e il problema dei rapporti con i cattivi padroni del web, cioè del web degli oligovoli in questo momento è che noi o riusciamo a dominare un po' di più, a controllare un po' di più i nostri dati oppure siamo maggiormente dominati. La scelta politica fatta dentro una simile situazione influirà potentemente sulle vite della maggioranza dei cittadini e quindi ne determinerà attitudini, conoscenze, cultura, eccetera. Chi sono i cattivi padroni della rete? Lo abbiamo già detto. Sono dei monopolisti. Uno ha il monopolio delle maggiori social network, Facebook, Instagram e WhatsApp. Google ha il monopolio della ricerca delle informazioni in rete. Sono ladri di brevetti, sono spietati con i concorrenti che devono essere fatti fallire o comprati e chiusi. Quindi sfruttano il lavoro, sfruttano i clienti e ci trasformano da cittadini in consumatori. Cioè noi abbiamo l'illusione in rete di essere degli attori, in realtà siamo lì. Uno per farci succhiare i dati, dall'altro per consumare. Sappiamo che non pagano le tasse, ci sono contenziosi con l'Unione Europea in particolare, che non accettano la responsabilità. Questo è un problema che si sta ponendo, vado alla conclusione, perché le piattaforme di Google dall'anno prossimo, molto probabilmente uno, torneranno a essere a pagamento e dall'altra parte non ci garantiscono di non succhiare dei dati dalle attività che si fanno in didattica digitale. Non è soltanto un problema italiano, questo nell'indagine in Francia è venuto fuori una dispersione dell'8% dei ragazzi che hanno avuto l'impossibilità di seguire con le famiglie più povere che seguono di più ma non hanno la competenza e con le famiglie più ricche che comprano invece lezioni sul web per i loro ragazzi. Nell'indagine Oxxo è venuto fuori un forte divario tra i ricchi e i poveri e ci sono tutta una serie di problemi che hanno a che fare con la scuola che hanno a che fare per esempio con le competenze diverse, cioè gli edifici scolastici sono in parte provinciali, in parte comunali, in parte circoscrizionali, il personale è statale o comunale, le risorse sono statali o regionali, l'organizzazione può essere regionale, provinciale e comunale. Quindi c'è un problema anche relativo alla banda e arriviamo alla conclusione, così avanziamo nel tempo per una domanda che ci dovremmo fare. Quali sono i dati prodotti dagli strumenti che stiamo utilizzando in questo momento e abbiamo utilizzato in questo periodo? Quali altri processi di traduzione dei dati, cioè di utilizzo dei dati, sono in atto in ognuna delle piattaforme? Cioè controlliamo le piattaforme, chi progetta tale produzione di dati, dove vengono archiviati, chi ha accesso ad essi e come vengono utilizzati e per quali scopi? Quali autorità sono proposte al controllo del trattamento di questi dati? Quindi concludo e poi ci fermiamo, necessità di formare una cultura digitale, non solo di addestrarsi a strumenti e a piattaforme. Attraverso questa potremmo avere consapevolezza di che cosa è la rete, di come funziona quel mondo che vogliamo usare, che è il mondo del web, come essere cittadini meno dominati e più attivi. Ci sono dei problemi e dei rischi da evitare come cittadini e come scuola. Ci sono dei criteri educativi, didattici e metodologici, non solo tecnici, con cui scegliere una piattaforma e uno strumento. C'è un forte legame tra lo scegliere una piattaforma e la programmazione didattica e la metodologia che noi vogliamo utilizzare, che deve essere possibile per tutti, cioè deve essere possibile per i ragazzi, deve essere possibile per le famiglie, deve essere possibile per le scuole. Allora, io mi fermo qua, mettiamo giù e vediamo di passare a leggere insieme le vostre. Allora, saluto tutti, ma adesso vediamo un attimo. Allora, Antonio Pierrone scrive La didattica a distanza sarà un caso, ma il legislatore, le note ministeriali, no, il legislatore va a slittare il termine didattica da sostantivo ad aggettivo. È una questione di Elana Caprina o altro? Vabbè, problemi sull'audio? Io chiedo a Maria Grazia se adesso si è assestata la situazione. Allora, lì ciò che potrebbe riassumere sinteticamente, lo farò nella seconda parte, cioè ci sono proprio degli schemi di proposta. Adesso abbiamo cercato di fare un'analisi più di carattere generale. Allora, 8 miliardi di Cipirone, a che cosa ti riferisci? Ecco, ai tagli che sono stati fatti anche nella scuola, quindi mi pare che sui tagli alla scuola siamo abbastanza. Ecco, questa è una domanda, diremmo, di prospettiva. È possibile costruire una piattaforma pubblica statale? È possibile adottare delle piattaforme open, free, cioè o aperte o libere, o comunque piattaforme gestite dal pubblico. Quello che deve fare il ministero, cioè il problema del ministero non è quello di fare la pubblicità a Google, ma quello di studiare, come vedremo, i docenti che sono stati intervistati dicono che nella maggior parte dei casi loro preferirebbero una piattaforma di pubblico, no? Quindi la privacy che fine ha fatto. Allora, Salvatore Iozzo dice, io ho risolto riavviando la finestra di collegamento, c'era stato un problema? Si può fare una domanda? Evidentemente sì, le stiamo leggendo. Salvatore riprende, saremo schiavi di Google al rientro a scuola in quanto saremo legati a Google Suite se diventasse a pagamento in mancanza di piattaforme ministeriali. Allora, in Germania esistono delle piattaforme, Antonio Pirone, sai se in Germania esistono delle piattaforme? Allora, intanto sarebbe bene che ci fosse una o due piattaforme. Comunque, domande in audio non le possiamo fare, ma potete scrivere, perché io adesso le sto leggendo per tutti. Come affrontare in collegio il discorso senza essere linciati? Ma se volete potete farlo attraverso i video che sono stati utilizzati. Io mi rendo conto della vostra difficoltà di rapportarvi ai colleghi, ai dirigenti scolastici. Su questo magari ruberemo cinque minuti per vedere quali sono state le reazioni di una campione di 750 docenti. Sì, all'inizio è stato necessario affidarci a presidi animatori digitali quando hanno dovuto, certo, hanno dovuto proporvi delle piattaforme. Allora, io per rispondere a questo, ritorno un attimo indietro, riapro questa modalità tutto schermo e ritorniamo alla prima pagina. Perché così non saltiamo una parte che nella vostra, diciamo... Ah no, la troviamo nella seconda, siamo fortunati. La troviamo nella seconda parte. Quindi qua possiamo chiudere e passiamo. Allora io direi alla seconda parte. Voi continuate con le domande. Io tengo conto delle domande che avete fatto adesso che facciamo la seconda parte. Scusate, mi sono sbagliato. Allora. Come tutelare i diritti lo diciamo adesso. Adesso abbiamo detto i problemi. Adesso il problema è quello di ragionare sulla scuola che verrà, cioè sulla scuola dell'anno prossimo. Allora, nella scuola dell'anno prossimo cerchiamo di evitare i problemi che ci siamo portati avanti con la scuola di quest'anno. Allora, dice una preside, molto esperta di tecnologie, La didattica a distanza non significa replicare la didattica in presenza e mai la didattica a distanza potrà sostituire quella in presenza. Il percorso di un docente per mettere in atto un uso sensato delle nuove tecnologie lungo complesso, graduale, richiede desiderio di rinnovamento, capacità di adattamento, attitudini alla scoperta continua, formazione e autoformazione. E questo forse è stata una delle resistenze che ci sono state da parte di alcuni dei vostri colleghi. Allora, Penge vi propone uno schemino in sei passi. Cioè, cercare di analizzare innanzitutto la situazione, gli studenti, le possibilità che ha la scuola, le connessioni, le competenze. Censire gli strumenti messi a disposizione, cioè l'istituto comprensivo ha già una piattaforma, può usare una piattaforma, oppure si può fare un contratto vantaggioso quasi gratis con un fornitore di servizi. Esistono fornitori di piattaforme di didattica a distanza open, che quindi hanno un prezzo decisamente più basso e non hanno la finalità di Google di succhiare le informazioni dal punto di vista dello sfruttamento delle informazioni. Occorre censire anche gli strumenti su cui sono state realizzate delle buone pratiche. All'inizio, che cosa ha fatto? Noi adesso siamo partiti in emergenza e abbiamo fatto in poco tempo quello che potevamo fare. Ed è giusto così. Adesso abbiamo, e questo è il senso di questo discorso, la possibilità di ragionare sul futuro, cioè sull'anno prossimo. Allora cerchiamo di partire in modo un po' più ordinato, prendendo quello che fra qualche giorno ci dirà il ministro, ma nello stesso tempo cerchiamo anche noi di organizzare, e alcuni dirigenti scolastici, alcune scuole lo stanno già facendo, creiamo uno standard dall'alto o dal basso, altrimenti gli studenti, standard vuol dire che i vari docenti usano più o meno le stesse cose, perché altrimenti devono saltare da una videoconferenza a una chat, a cos'è di questo genere. Allora possiamo poi partire col progetto, ma verifichiamo se non funziona, dobbiamo in qualche modo. Queste sono le domande che avete trovato sul video, cioè dobbiamo dare priorità in questo contesto ai programmi o alla relazione educativa. A tutte e due va bene, ma la relazione educativa è quella fondamentale. Ci sono i problemi didattici, ma ci sono anche le risposte emotive, il vissuto dei nostri allievi è anche nostro, e delle famiglie con le quali abbiamo lavorato. Quali modelli? Cioè esiste un modello unico sicuro per costruirsi una situazione? Evidentemente si tratta di utilizzare possibilmente uno o due modelli diversi per ogni tipo di scuola e una o due proposte di piattaforme che poi le scuole adattano e contestualizzano. Una delle parole chiave è contestualizzare, perché ognuno di noi conosce al meglio la propria situazione. In rete c'è già tutto, c'è una specie di borsa di Mary Poppins, tiriamo fuori tutto quello che ci serve o cerchiamo anche di costruirci delle soluzioni. Come abbiamo visto la rete è non infinita, quindi a un certo punto dobbiamo cercare di risparmiarla. Ricordiamoci che dietro a ogni macchina, che dietro a ogni algoritmo che ci cattura, ci sono delle persone che prendono le decisioni. Non è il web di per sé o l'algoritmo di per sé che prende le decisioni. La rete è fatta di persone, è un collegamento fra persone. Abbiamo visto appunto che in democrazia i diritti vanno rispettati, ma ovviamente c'è bisogno di una limitazione. Tenete conto che in questo momento, finora, fino all'altro ieri, erano una decina i diritti sanciti dalla Costituzione che erano limitati o sospesi. Questo potrebbe essere un ottimo suggerimento di ricerca il prossimo anno. Io lo dicevo a quelli che mi chiedevano cosa faccio quest'anno. Allora domandati insieme ai tuoi allievi che cosa stiamo vivendo, quali sono le nostre reazioni. Parliamo di cittadinanza, come si portano i cittadini, rispettano le regole, rispettano gli altri, si mettono la mascherina e così via. Fare di questa emergenza un laboratorio di democrazia e di cittadinanza vissuti. Può anche essere un discorso di cittadinanza linguistica, perché la lingua che usiamo nel web è diversa dalla lingua che usiamo in presenza e poi c'è il problema di non lasciare troppe persone indietro. Allora, sui giornali avete visto di tutto, nel senso che è comparso una serie di classi pollaio, dopo il turno e raddoppiamo le aule e così via. Ci sarebbero dei tetti, voi li conoscete, ma ci sono dei tetti per livello di scuola. Non più di 29 allievi nell'infanzia, non più di 27 alla primaria, non più di 28 alle medie e 30 alle superiori. Chi è che sfonda questi tetti? L'ufficio scolastico regionale ha fuso due classi e a 18 e il 16 ha fatto una classe da 34. Un altro ufficio scolastico regionale ha fatto una classe da 32 con i disabili dentro. Quindi il problema è che in una situazione di estremità e di riduzione dell'organico docente uguale lezione frontale, e quindi non c'è spazio con presenza laboratoria, eccetera, eccetera, noi dobbiamo lavorare in una situazione di questo genere. Lo riconosce Bianchi che il presidente della commissione che ha lavorato e che ha consegnato il 25, il fatto che il numero massimo di alunni per classe ha un costo di personale decisamente notevole, come quello di trovare aule aggiuntive, cioè fare lezioni con 10 o 12 alunni per classe, la spesa dei docenti come minimo si deve raddoppiare. Da dove vengono tutti questi miliardi? Cioè ci sono? Allora, i dirigenti scolastici dicono che un standard generico del tipo metaclasse può semplificare le scelte organizzative, ma crea una situazione illogica dal punto di vista didattico, rispetto alla situazione in presenza, e non è pensabile un'unica ipotesi organizzativa e metodologica, perché l'età, le competenze, l'autonomia, gli obiettivi, le metodologie sono profondamente diverse alle varie età. È evidente che dobbiamo cambiare, questo è un gruppo di esperti che ha scritto le indicazioni nazionali del 2012, dobbiamo cambiare l'anno prossimo orari, scadenze, obblighi contrattuali, modalità di insegnamento e di verifica, cioè ci vuole maggiore flessibilità. Dobbiamo alternare i lavori in piccoli gruppi e a distanza. Dobbiamo domandarci che impatto ha una scuola organizzata in modo più flessibile, più frammentario, sulle famiglie che si stanno riorganizzando. Pensiamo a una scuola in cui qualcuno entra alle 8, qualcuno entra alle 9, qualcuno entra alle 10, qualcuno esce alle 12, qualcuno esce all'1, poi ci sono quelli del pomeriggio. Ma chi li accompagna? E soprattutto quali insegnanti stanno con loro? Allora una delle proposte di questo gruppo era riduciamo il tempo scuola e in due anni ne facciamo uno, perché comunque i programmi andranno ridimensionati rispetto a un tempo scuola più ridotto. Dobbiamo cercare di ritornare a un contesto idoneo alla esplorazione, alla scoperta, alla didattica laboratoriale e poi ancora ad apprendimenti in forma problematica, cioè maggiori compiti di realtà significativi. Quello che io dicevo alle colleghe che chiedevano consigli è, ma basterebbe, oltre a fare un po' di lezione, oltre a vedere i ragazzi qualche volta in videoconferenza, far scrivere ai ragazzi un diario di quello che stanno vivendo, di come si sentono, delle riflessioni su come si comportano a livello di cittadini loro, ma tutte le persone che gli stanno intorno e così via. Ovviamente questo discorso di una didattica laboratoriale non passa solo attraverso il digitale, ma può essere fatto di oggetti, letture, scrittura, video, manufatti e così via. Cioè è opportuno valorizzare e potenziare l'apprendimento attivo, la problematizzazione, la riflessione, soprattutto l'altra parola chiave è la contestualizzazione delle esperienze. Voi siete voi scuola, siete voi buoni docenti, buone scuole, che siete in grado di contestualizzare, cioè di fare una scuola a misura di quello che avete, di quello che potete e di quello che possono fare i vostri ragazzi. Quindi evidentemente l'anno prossimo ci sarà meno lezione frontale, si augura un po' più di attività, di ricerca, programmi ridotti, secondo il concetto che non si insegnano le discipline, ma si insegnano attraverso le discipline. La preoccupazione rispetto alla scuola dell'anno prossimo è che ci sia un quadro più organizzato, con delle flessibilità, ma che non porti troppa, diciamo, confusione per le scuole, per i ragazzi e anche per i genitori che dovranno riorganizzarci e tornare al lavoro. Quindi una migliore organizzazione e evitiamo una scuola che cede e che quindi si scarica sulle famiglie, sui docenti e sul digitale. Piuttosto di fare male, facciamo meno. Allora, forme miste di didattica in presenza a distanza, si sta andando verso questo in questi giorni. Cominciando dai più piccoli, si dice, ma la relazione è un fatto, la relazione, il clima di classe è una cosa che facilita l'apprendimento e la formazione in tutti i livelli. Il 25, la task force ha consegnato le linee guida e il comitato tecnico scientifico ha consegnato il suo pacchetto. Si parla di cominciare dai più piccoli, di diminuire il numero dei ragazzi per gruppo, di distanziare, igienizzare, prendere precauzioni, stare all'aperto. Evidentemente è ridicolo di andare nei boschi a fare lezioni, perché nei quartieri delle grandi città dove sono i boschi. E poi chi li porta? Mi devono portare dei docenti, quindi c'è orario docente da mettere in ballo, chi li accompagna, poi se piove. Allora, il Politecnico di Torino si è messo a misurare le aule e ha visto che non era una cosa così semplice. Qui abbiamo un quadro, se volete confuso, ma poi arriviamo a una sintesi, spero che risponda alla collega che diceva prima. Allora, da un lato abbiamo una serie di problemi, che sono gli spazi, le metrature, il numero delle ore, i giorni di didattica erogata, che sono fissati per legge e che quindi vanno cambiati per legge. Noi dobbiamo dire, nel tempo scuola media, tempo normale, 30 ore di lezione per 33 settimane. Possiamo ridurle un po' del 20% con la legge sull'autonomia, ma per scendere sotto il 20% dobbiamo dire che quella legge, quella norma è sospesa. Cioè, per quest'anno non si faranno 990 ore, ma se ne faranno, ad esempio, 600. Questo si incrocia con il numero di docenti in organico e con il loro orario. Cioè, non possiamo pensare di continuare a avere docenti. Io ho seguito, insomma, molte colleghe che lavoravano 10-12 ore al giorno tra preparare e tra fare lezione. Evidentemente bisognerà normare in qualche modo, attraverso contratti, e quindi c'è un problema di rapporto fra numeri e persone. Da un lato, rapporti di formazione, clima di classe, l'anno prossimo si parla, vedremo, di 200.000 supplenti su 840.000 insegnanti. Questo ha qualche controindicazione anche a livello di continuità didattica. Quanti di questi supplenti saranno temporanei? Cioè, dopo 3 o 6 mesi spariscono. E quanti invece vanno a occupare cattedre che poi terranno e che poi daranno continuità? Le famiglie hanno bisogno di organizzarsi e di tornare al lavoro. È stato rinnovato il bonus babysitter. Va bene, mi pare di capire dalle esperienze che non tutte le famiglie riescono a cavarsi con la babysitter. I prezzi delle babysitter sono evidentemente aumentati e qualcuno dice anche ma le babysitter l'hanno fatto il tampone perché poi ce le portiamo in casa e così via. Quindi c'è un problema, una mescolanza di problemi tecnici, di strumenti, di banda di organizzazione, di disponibilità degli spazi e dall'altra c'è un problema che si è evidenziato di frattura digitale sia rispetto agli aspetti tecnici sia rispetto alle competenze. C'è il rischio che il digitale venga preso come una scorciatoia, come ambiente di apprendimento per fare tutto e in realtà stiamo prendendo un digitale che ci è imposto come le LIM, come tutte queste cose che non sono nate per la scuola dal mercato. Le LIM non sono nate per la scuola, le piattaforme che noi stiamo usando sono nate per il lavoro, per il mercato. Poi si vendono a scuola per due motivi. Uno perché la scuola è un mercato facile, due perché dall'altra parte fa novità, cioè fa nuovo, il nuovo fa moderno. Il digitale rischia di essere una scorciatoia rispetto ai problemi della scuola. Sia Rodotà che Bauman ci hanno detto fino alla noia che la rete di per sé, una scuola malata messa in rete, non si salva improvvisamente, non si danno. Allora, usiamo la rete, evidentemente, io sono un partito della rete dagli anni 90, cioè da quando c'è, ma usiamola sapendo quali sono i limiti che andiamo ad affrontare. Cerchiamo di avere una prospettiva rispetto al futuro e non pensare di tornare indietro alla normalità di prima che non sarà più possibile. Fare i doppi turni è un problema perché doppi turni vuol dire che si entra con orari distanziati, si esce con orari distanziati, ma le famiglie che tornano a lavorare come si organizzano? Cioè, cosa facciamo? Ritiriamo fuori i nonni che sono sopravvissuti e li mettiamo a disposizione per andare a prendere e a ritirare i vari figli della famiglia? Poi fare i doppi turni vuol dire che durante l'intervallo di pranzo o il personale ATA che è insufficiente o dalle agenzie a pagamento devono pulire e disinfettare tutto. E poi al pomeriggio chi subentra ai docenti che hanno già fatto le loro 18 ore? Quindi ci saranno dei orari, ultima slide, di tipo analitico pessimista, ma poi andiamo alle prospettive e alle speranze. Allora, il numero medio degli allievi dell'infanzia è di 21 per classe in Italia. Nella primaria 19, le superiori 21. È stato fatto un calcolo dai sindacati che per doppiare solo l'infanzia e primaria occorrerebbero 3 miliardi e mezzo. Se ci mettiamo le superiori, doppiare, quindi vuol dire raddoppiare i docenti, 2 miliardi e mezzo. Ristrutturare le scuole che sta partendo un piano di ristrutturazione delle scuole durante l'estate, in alcune scuole è già partito, 6 miliardi ci vorrebbero. E manca la secondaria di primo grado, cioè la scuola media. Il totale sarebbe 12 miliardi più 5 milioni per mascherine e sicurezza al giorno. Dopodiché si tratta di considerare oltre alla primaria anche le scuole paritarie e comunali. Leggevo che c'è il rischio di un trasferimento in massa gli allievi dalle pari o dalle comunali che non riescono a adeguarsi verso la scuola pubblica e che quindi a un certo punto ci sia bisogno di affrontare non solo gli 8 milioni erotti ma anche qualcosa in più. In pratica per i sindacati una classe costa non meno di 50 mila euro, qualcosa di più se... Allora, che soldi ha a disposizione la scuola? 1,4 miliardi, 200 mila supplenti che dovranno sostituire intanto i 6 mila pensionati e poi dal ministero si continua a parlare di esterni, di volontari, di animatori, di associazioni di territorio. Vi risparmio, ma vedetela se volete, la video del ministro Ascani, facciamo una annotazione sulla didattica e poi tiriamo le conclusioni di questa seconda parte. Allora, Trinchiero dice cerchiamo di concentrarci vista la situazione su cosa è veramente importante che è necessario. Non pensiamo di fare tutto. Proponiamo attività strutturate e un feedback, un ritorno ricco e articolato perché di questo abbiamo bisogno di tornare a dialogare con i nostri allievi. Valutiamo mentre formiamo e formiamo mentre si valuta. c'è la discussione sulla valutazione va verso una valutazione di tipo formativo, ma soprattutto cerchiamo di suscitare emozioni positive e di promuovere l'interazione cognitiva anche attraverso le emozioni. Allora, la didattica online, queste sono le mie osservazioni andando verso la conclusione, è una cosa non semplice e controversa, ma questa è un'emergenza, facciamo quello che possiamo. Non esistono ricette e offerte commerciali che risolvano e non esiste una soluzione, una piattaforma che vada bene per tutti. L'ideale è che i buoni docenti, come li abbiamo definiti, usino in modo intelligente quello che hanno a disposizione, quello che sanno, che possono usare, che si adatta alla loro situazione. Con intelligenza, flessibilità, contestualizzazione di strumenti conosciuti è possibile per tutti, cioè possibile per gli allievi, adesso lo sapete che cosa gli allievi e le famiglie hanno, gli docenti e così via. Sono importanti le scelte tecnologiche, ma sono subalterne alle scelte educative, sostengono le associazioni degli insegnanti. La chiave del nostro lavoro è la relazione educativa anche per il prossimo anno, ed è per questa che avete lavorato quest'anno articolando attività diverse e che possono essere attività che hanno a che fare col digitale, ma anche quello di leggere insieme. Allora, se io dico ai ragazzi leggete un libro e domani lo commentiamo insieme, state facendo didattica a distanza, ma non state facendo didattica digitale. Va bene così, cioè questa è una soluzione. Allora, vediamo al Ministero. Il Ministero sta prospettando, verrà fuori nei prossimi giorni, intanto tre ipotesi. L'ipotesi A, B e C sono le ipotesi va tutto bene, allora dividiamo metà e metà, metà in presenza, metà distanza, però con l'eccezione del primo ciclo, quindi materna, primaria e scuola media, scuola media c'è ancora un punto interrogativo, dal prossimo anno devono fare il più possibile didattica in presenza, anche se ridotta come numero di ore, come giorni alla settimana e come lezioni erogate nell'arco dell'anno. se il virus va male scendiamo al 25%, quindi ci vediamo una volta ogni quattro settimane, se no blocchiamo tutto. Quindi stiamo andando verso un progetto differenziato per i diversi livelli dietali, diverse esigenze effettive e relazionali. A mio avviso è auspicabile che non ci venga proposto un progetto, ma delle linee guida. Il Ministero deve scrivere delle linee guida da un lato e deve dare alle scuole la possibilità di organizzarsi in base anche alle esperienze dell'anno passato a livello di autonomia e di contestualizzazione. Ovviamente si punta un'apertura e un'integrazione col territorio e con l'associazionismo, ma senza farsi troppe illusioni. Se in un quartiere di una grande città ci sono sei scuole con 90 docenti, due parrocchie e quindi due oratori e quattro associazioni di 20 persone non riusciamo a coprire il fabbisogno dei nove per sei ecco cinquantaquattro e cinquecento e quaranta docenti che mancano. Quindi questo è un pezzo di risorsa ma non è determinante. Allora quello che vedrete nell'intervista della Ministra è questo come vi abbiamo detto cioè dalle elementari alle medie più scuola possibile in presenza riducendo i gruppi classe dividendoli per due facendo anche attività non sempre scolastiche non sempre nella didattica dei curricoli tradizionali musica arte sport creatività laboratorio eccetera anche questo ha bisogno di fondi di spazi di norme di sorveglianza e di sicurezza cosa vuol dire sorveglianza vuol dire che per portare i bambini all'oratorio dove si organizzano delle attività ci vuole un accompagnatore che sia un docente oppure ci vuole una liberatoria dei genitori come responsabili che accettino che per il 15% di ore in un determinato orario sia l'animatore dell'oratorio che prende i ragazzi e va e se ne rende responsabile in questo momento la normativa è che i responsabili sono sempre i docenti e i dirigenti scolastici per quelli invece più grandi stiamo parlando della secondaria di secondo grado si può continuare con una didattica 50 e 50 secondo il ministero c'è stata poi la discussione sulla necessità della socialità a scuola che non si rimpiazza ovviamente con il computer c'è stato il discorso sul fatto che dobbiamo ritornare in aula ecco la ministra ha detto anzi la vice ministra ha detto sostanzialmente due cose importanti che riprenderemo allora salviamo di tutto quello che è successo quest'anno innanzitutto lo spirito di adattamento e io ho aggiunto di creatività di capacità organizzativa di disponibilità anche a lavorare oltre il necessario che la comunità scolastica ha dimostrato anche se spesso non viene considerata a livello sociale come una diciamo particolarmente innovativa e progressista il che tra l'altro non è vero e la seconda cosa è che l'utilizzo delle tecnologie a scuola questa esperienza può essere utile ma può essere utile se noi spostiamo la didattica digitale all'interno della scuola quindi andiamo verso una situazione in cui c'è un modello diciamo che va per i fatti suoi che è relativo alla gravità della situazione del coding l'auspicio che ci siano un paio di piattaforme meglio se piattaforme open e il ministero deve proporre una o due piattaforme ma sarebbe meglio che non proponesse piattaforme di tipo commerciale o comunque se le propone l'interfaccia cioè chi controlla Google non deve essere il singolo dirigente scolastico ma deve essere il ministero che si fa portavoce dei problemi della privacy con Google e fa intervenire il garante della privacy il governo e quindi via perché le piattaforme private devono essere controllate dal pubblico il ministero deve garantire le condizioni base per tutti è il minimo comune denominatore in termini di conoscenza di abilità e di competenze cui hanno diritto tutti gli allievi d'Italia cioè non più una situazione di macchia di leopardo ma dice questa base la devono avere tutti e loro devono essere l'interfaccia con i padroni della rete a livello di cittadinanza questa esperienza tragica vissuta potrebbe essere un elemento di laboratorio di riflessione di narrazione attraverso appunto dicevamo diari di interlocuzione di confronto con i ragazzi di riscrittura riflessiva di diari e così via e quindi andare verso una didattica più di carattere riflessivo attivo e disciplinare poi una volta ogni tanto ci troviamo in videoconferenza e facciamo il punto della situazione è stata un'esperienza vissuta anche dal punto di vista linguistico perché la lingua che abbiamo usato in rete e i limiti pericoli della rete del mondo che ci ospita è venuti fuori e si è evidenziato che non sono gli stessi della didattica in presenza quindi l'auspicio è più progettualità e più progettualità digitale e cooperativa a scuola nelle forme possibili ovviamente stiamo parlando di una valutazione formativa proattiva e di autovalutazione e il problema è di rientrare nelle famiglie che si stanno riorganizzando quindi un nuovo patto formativo che superi le diffidenze i contrasti ma anche le difficoltà della famiglia uno sta andando a lavorare e quell'altro che invece continua con il lavoro a distanza ma quindi a io direi che gli insegnanti all'inizio di questa avventura sono stati considerati degli eroi ecco non vorrei che succedesse come se non c'è un patto formativo che funziona e che non vorrei che succedesse come per gli esperti i medici eccetera che all'inizio erano degli eroi poi sono diventati un po' la controparte vi lascio da leggere da guardare ma Cerini era capo della parte che doveva riguardare 06 cioè le linee guida da leggere per i bambini piccoli allora da un lato dibattito dall'altra che cosa ha tirato fuori il ministero allora riapertura delle 8200 scuole sino alla terza media compresa non in didattica a distanza soprattutto nelle scuole del primo ciclo non sacrifichiamo tanto il tempo scuola vogliamo che si torni a scuola a settembre con una didattica a distanza o mista preferibilmente in presenza per i bambini dell'infanzia degli elementari e le medie per aumentare la socialità nei diversi territori è possibile prendere accordi con gli enti locali con i mezzi di trasporto con il terzo settore e quindi oratori associazionismo e così via per rispondere alle esigenze allora a riaprire le scuole a settembre significa ovviamente avere un po' più di spazi avere più docenti e ridurre la programmazione e la erogazione di scuola questo esplicitamente e deve essere fatto dal governo non possono essere le singole scuole a discutere con le famiglie il governo deve dire quest'anno invece di fare 990 1000 pass tempo prolungato tempo pieno garantiamo 700 ore di didattica il resto è una didattica integrativa le risorse che sono state messe in campo sono 38.000 euro a scuola per la sanificazione termoscanner identificare le aree verdi attrezzarle risistemare gli spazi esterni smaltire i rifiuti anche quelli speciali mascherine eccetera far partire gli appalti per l'edilizia scambiare gli arredi acquistare o noleggiare tablet e hardware allora vediamo cosa succede per voi continuate pure a a a scrivere perché poi ci fermeremo con una parte di discussione allora vediamo cosa succede se si riduce l'unità didattica a 45 minuti o a 40 come dice qualcuno allora per esempio se l'orario catedra è di 18 ore come nella secondaria di primo di secondo grado 18 più il 25 per cento fa 22 5 per cento ce ne servirebbero 36 la scuola della primaria ha 22 ore ma corriggetemi se sbaglio 20 ore sono di didattica e 2 ore sono di programmazione quindi il 20 per cento farebbe un più 5 che porta a 25 ore nell'infanzia che ha 25 ore c'è un po' la stessa situazione cioè si possono radunare 6 ore di unità didattiche che porta a un 28 29 ore articolate su 4 o su 5 giorni questo evidentemente è da decidere allora se viene detto in modo esplicito scusate se insisto ma questa è la normativa e le scuole non devono trovarsi nei guai deve essere il ministero e il governo che decidano se questo è questa riduzione è da 40 a 45 minuti è comprensiva della flessibilità legata alla legge sull'autonomia allora non possiamo fare altro se invece è un patto eccedente allora possiamo ancora ridurre del 20 per cento legato all'autonomia poi ci sarà un certo numero di supplenti e di organico aggiuntivo e poi ci saranno delle integrazioni della didattica evidentemente ci sono una serie di problemi organizzativi da cui dobbiamo cominciare a pensare adesso dal discorso non li posso portare nel bosco oppure chi li accompagna e allora delega dei genitori anche al fatto che andiamo a fare lezione nel cinema e nei teatri come dicono al ministero ma i cinema e i teatri devono essere sanificati ogni volta chi li accompagna stesso problema devono esserci delle liberatorie da parte dei cittadini allora questa è la sintesi del discorso il punto 1 è quello di cui abbiamo parlato fino adesso cioè possiamo ottenere qualcosa riducendo le unità didattiche non le ore ovviamente perché le ore per accordo internazionale sono di 60 minuti a 40 45 minuti valutando se viene esplicitato che il 20% dell'autonomia è fuori oppure no ci saranno alcuni supplenti che avanzano non certo appunto da raddoppiare il numero dei docenti e ci sarà un po' di organico aggiuntivo più integrazioni dal territorio ma con le caratteristiche che abbiamo detto siamo arrivati alla fine di questa parte il comitato tecnico scientifico non ha detto niente di particolare cioè torniamo a scuola più consapevoli e responsabili insieme possiamo proteggerci tutti meglio allora se hai la febbre non venire a scuola quando sei a scuola indossa la mascherina segui l'indicazione degli insegnanti rispetto alla segnaletica si stanno studiando di entrare da una parte di uscire dall'altra di fare dei corridoi per non far incontrare gli allievi mantieni la distanza di un metro evita gli assembramenti il contatto fisico soprattutto lavati abbondantemente le mani usa gli appositi dispenser e così via la responsabilità e l'organizzazione di questa parte sulla sicurezza è a carico della scuola allora io riprendo le vostre domande allora i sindaci come commissari straordinari dice Antonio Pirrone per sbloccare la burocrazia edilizia è stato è una proposta comparsa tra ieri e oggi insomma sostanzialmente che siano i sindaci che si occupino di lavorare sulla parte che riguarda l'edilizia con i fondi che ci saranno Maria Grazia di Ciocco condivido la relazione educativa e il suo discorso saggio orientato al problem soli ma quale tutela per i docenti accompagnatori e la tutela è quella che se accompagna un docente un docente fa parte allora un docente che porta fuori i ragazzi vuol dire che ha chiesto il permesso ai genitori e quindi la liberatoria se non lo accompagna lui deve essere chiaro e quindi ci deve essere una liberatoria che non sia mai fatta una liberatoria ulteriore dei genitori che dicono li accompagna e quindi come dice come conclude la collega Maria Grazia di Ciocco occorre un nuovo patto fra miur docenti e sindacati e su questo siamo pienamente d'accordo anche io ci metterò il governo perché è il governo che deve stabilire quali sono le leggi che valgono provvisoriamente l'anno prossimo per la scuola allora io non vorrei suggerire piattaforme io vi sto dicendo se voi usate Google sappiate che correte quei rischi se usate Microsoft fa la stessa cosa allora cosa facciamo non usiamo il web oppure usiamo il web ma sapendo quali sono i rischi e chiedendo al ministero di assumersi il ruolo di controparte poi esistono delle piattaforme posso citarvene alcune ne metterò come link nel materiale che sarà pubblicato nei prossimi giorni esiste per esempio una piattaforma open che si chiama ADA e che viene gestita da una piccola software house che funziona bene da molti anni un governo debole come il nostro come può contrattare con i giganti del web prosegue Maria grazie a Di Ciocco sono assolutamente d'accordo ma il problema è che questo problema è un problema di carattere europeo ok voglio dire può darsi che noi abbiamo un governo debole io sono d'accordo abbiamo una democrazia malata questo l'abbiamo detto durante l'anno ma in realtà i problemi di far pagare le tasse di far rispettare la privacy di far rispettare le leggi non sono più un problema dei singoli paesi ma sono problemi della infanzia chi finanzia il terzo settore Antonio Pirrone il problema secondo me è che non ci sono soldi per finanziarlo in questo momento non si è mai parlato di finanziare il terzo settore si è parlato di volontariato e quindi ci si aspetta che il terzo settore Antonio Pirrone mi corregge sono 22 più 2 le ore nella primaria cioè 22 di didattica di cui 2 di compresenza se ricordo bene e 2 invece di programmazione o è per la diciamo per la stai parlando dell'infanzia Pirrone ecco e riguardo i docenti con patologie quindi quelli della legge 104 e la legge 104 rimane i docenti finché non c'è un contratto di lavoro nuovo fatto apposta anche solo per un anno e finché non ci sono delle norme che dicono i docenti possono lavorare 22 ore anziché 18 e a questo punto però le leggi che ci sono le leggi che ci sono continuano a valere per tutti quelli che hanno diritto a qualche cosa cioè i diritti non possono essere cancellati Maria Grazia di Ciocco ringrazia per la ecco allora Pirrone mi diceva quindi siamo 22 più 2 nella primaria più 2 di programmazione ci saranno delle limitazioni per la 104 come dicevo prima no direi di no nel senso che le leggi rimangono e devono essere evidente allora chi ha per esempio il 9 ore di cattedra perché ha dei motivi validi non si può abolire una legge si può abolire una legge anzi dice il allora perdo un minuto per dire una cosa e poi vediamo se riusciamo a fare ancora la terza parte che riguarda il futuro allora il garante della privacy è intervenuto due volte sul discorso non solo della didattica a distanza ma anche sul fatto che una decina di diritti sanciti dalla costituzione sono stati sospesi o limitati quello che ha detto il garante della privacy al governo è che i diritti si possono limitare o sospendere soltanto uno su iniziativa del governo e non delle regioni e dei comuni ognuno fa quello che vuole due soltanto se viene chiarito molto bene e questo purtroppo ha creato molta confusione viene chiarito molto bene quali sono i limiti a quel diritto per esempio gli spostamenti la terza cosa è se è un intervento a tempo perché se no stiamo modificando la costituzione quindi se io dico per tre mesi per quattro mesi c'è il virus e quindi non potete andare in un'altra regione lo deve fare il governo deve dichiarare quanto tempo dura in base all'andamento ovviamente e dall'altra parte deve diciamo chiarire i limiti temporali ma anche i limiti di riduzione della l'altra cosa che su cui c'è stato un intervento è stato quello è stato quello della presidentessa della corte della consulta della corte costituzionale che ha detto non si può non si possono modificare le leggi sempre soltanto a livello di singola di singolo atto del presidente del consiglio cioè le leggi importanti devono passare attraverso il parlamento allora va bene l'emergenza quindi diamo più potere al presidente del consiglio ma temporaneamente non è che possiamo dirgli poi per il resto bisogna ritornare in parlamento e modificare le leggi in modo esplicito e questa è una cosa che al di là del discorso sulla cittadinanza intanto saluto Antonio Pirroni che si è disconnesso allora al di là della legge appunto sulla cittadinanza bisogna essere chiaro che cosa è a carico delle scuole e che cosa invece deve essere a carico del governo allora abbiamo una decina di minuti io direi che se siete d'accordo facciamo una carrellata di prospettive Cotranto Nuovo scrive Maria Grazia Di Ciocco potrebbe essere un serio problema come verranno remunerate le ore agentive dei docenti con quali denari questa domanda è quella che io cercavo di porve perché venga ribaltata insieme ad altri problemi la privacy eccetera cioè voglio dire che se si fa un piano per tutta la nazione di 55 miliardi ma a una scuola in cui si sono rubati nell'arco degli anni una decina di miliardi ne vengono restituiti 1,4 suddivisi su due anni allora a un certo punto se vogliamo modificare le cose il governo deve tirare fuori il paese il governo devono tirare fuori dei soldi per la scuola e quindi passare attraverso una contrattazione sindacale anche temporanea cioè che dice anche solo la 2020 2021 questo sarà un problema ma è evidente che non possiamo fare finta Maria Grazia di Ciocco saluta allora non so se siete d'accordo ma possiamo fare un paio di cose o continuare la discussione o vedere rapidamente alcune proposte sulla scuola non del prossimo anno che sarà ancora una scuola della emergenza ma sulla scuola che verrà cioè usare le riflessioni che abbiamo fatto per pensare alla scuola del futuro aspettate che ho perso ok va bene allora la scuola che verrà dicevamo una cosa che la crisi ci regala è la possibilità di pensare una scuola nuova e una società diversa e abbiamo visto l'intreccio fra società politica eccetera e scuola perché se no ci stiamo a raccontare delle cose che non facciamo allora impariamo le nostre esperienze come diceva il ministro lo spirito di adattamento della comunità scolastica che ha dimostrato ampiamente io vi volevo anche ricordare che nelle graduatorie sulla fiducia delle istituzioni in Italia insieme al Papa al Presidente della Repubblica ai carabinieri e a poche altre insomma la politica è molto più in basso la scuola italiana viene valutata positivamente da un 50-52% dei cittadini quindi in realtà è vero che noi abbiamo a che fare con dei genitori che magari ci diciamo ci minacciano ci contestano qualche volta abbiamo a che fare con i genitori con l'avvocato ma l'insieme della società ci vede ancora come istituzione fra le poche istituzioni che funzionano e questo credo sia stato rafforzato nella risposta che abbiamo dato alla prima parte della crisi allora l'altro punto era l'utilizzo delle tecnologie a scuola cioè questa esperienza può aiutare a modificare la didattica dall'interno la scuola del prossimo anno sarà la scuola del 2021 e quindi sarà ancora scuola dell'emergenza ma non sarà la scuola della normalità cioè la scuola che si proietta fuori il digitale è un ambiente di apprendimento di ricerca di comunicazione di cooperazione dentro la scuola e non solo fuori e non è soltanto uno strumento quindi teniamo conto degli aspetti di infrastrutture e di quelli delle competenze ma se parliamo di digitale non parliamo soltanto di macchine o di banda ma anche di formazione di più competenze di più cultura e di meno di più cultura digitale conoscenza del mondo web e di meno addestramento quindi la scuola del 2020 e 2021 non deve andare a regime facciamo il meglio possibile ma cominciamo a pensare a una scuola nuova altrimenti ricadiamo in un asservimento al privato che appare nuovo e quindi è una scorciatoia che ha due esiti quello di non pensare a un progetto di scuola nuova e quello di continuare a non investire sulla scuola oltre al miliardo virgola 4 la scuola del futuro si gioca dentro e fuori la scuola sarà sicuramente una scuola meno frontale più attiva più progettuale una scuola in cui si lavora di più per competenze di più per cittadinanza agita e per cultura e cittadinanza digitale dentro una scuola aperta al mondo al web non un'alternativa o una scorciatoia come in qualche modo corriamo il rischio il digitale è un ambiente di apprendimento a tutti gli effetti non so se riuscirò a farvelo vedere ma in fondo a questa presentazione c'è un'analisi di che cos'è un ambiente digitale in tutte le sue forme organizzazione degli spazi ruolo del docente i rapporti il clima di classe eccetera eccetera e la risposta alla domanda il digitale risponde a questi requisiti e la risposta è sempre sì il digitale è un ambiente di apprendimento di ricerca di attività didattica è una parte inevitabile della nostra cultura ed è una seconda cittadinanza dobbiamo pensare per il futuro a una scuola non troppo scaricata sulle spalle delle famiglie perché abbiamo visto che le famiglie sono quelle che hanno più difficoltà ma anche non troppo pesante per i docenti come è successo nella prima parte di questa nostra esperienza quindi dicevamo bisogna risolvere il problema delle piattaforme della privacy dei monopoli a livello di governo non solo di ministero e non di singola scuola e allora cominciamo a partire dicevamo anche l'anno prossimo da riflettere su questa esperienza che abbiamo vissuto come un enorme tragico laboratorio di cittadinanza agita e di cittadinanza e di cultura digitale questo perché costruiamo in questo modo una cultura della cittadinanza quest'anno dal primo di settembre avrebbe dovuto partire educazione alla cittadinanza facciamo educazione alla cittadinanza in questo modo cioè riflettendo su quello che avviene all'interno della società e della scuola cerchiamo di capire il web che usiamo e di cui siamo cittadini inevitabilmente due genitori su tre entro un'ora dalla nascita hanno già fotografato il figlio e l'hanno già postato in social network e quindi è già cominciata la cittadinanza digitale di ognuno di noi dobbiamo aiutare a comprendere e a elaborare i momenti critici le paure e l'angosce che i ragazzi vivono costruire un progetto di ricerca sulla relazione e sulla comunicazione perché sono un aspetto importante del web e quindi lavoriamo a una scuola dove ci sia più riflessione più apprendimento anche attraverso le emozioni più ricerca ed esperienze meno magari lezioni cioè riduciamo magari un po' i programmi come ricorda questo esperto un problema è quello di sul discorso della privacy e di quale controllo noi abbiamo sui vari soggetti privati come stiamo dicendo e soprattutto quando da gratuito questo servizio diventerà a pagamento cioè c'è un bisogno urgente che credo sia emerso dal nostro discorso non solo di ragionare sulla scuola ma di ragionare sulla scuola all'interno della politica dell'apprendimento a distanza e dell'apprendimento attraverso il web non si tratta non si tratta di controllare un modello economico ma di gestirlo se non lo faremo e il modello economico è quello di una globalizzazione selvaggia e difficilmente controllabile anche moltiplicata dal web dalle tecnologie perché il problema non è solo la scuola ma è la democrazia e la cittadinanza quindi rispettiamo la complessità del problema della situazione che stiamo vivendo della scuola italiana ma ricordiamoci che gli strumenti che usiamo la videoconferenza non è nata per insegnare le LIM non sono nate per l'educazione ma sono nate in ambito lavorativo allora non dobbiamo più usarle no le usiamo ma le usiamo sapendo quali sono i loro limiti e quali sono invece i loro vantaggi non assorbiamo nella scuola per l'ennesima volta dei prodotti di carattere commerciale allora se pensiamo alla scuola che verrà dobbiamo ripensare al di là delle limitazioni di quest'anno alla pluralità delle intelligenze questo è Garner ma se noi parlavamo di coding parlavamo di una fetta della logica computazionale che è una fetta dell'intelligenza logico-matematica ma poi abbiamo un'intelligenza musicale naturalistica spaziale intrapersonale linguistica del corpo interpersonale esistenziale quante di queste intelligenze e potenzialità sono state sacrificate durante la didattica a distanza non per colpa di nessuno tanto tanto meno per colpa vostra quindi la didattica a distanza non è il trasferimento online della didattica tradizionale facciamo le lezioni le interrogazioni le ricerche io ricordo appunto di colleghi che dicevano bisogna spegnere la luce quando ti interrogo devi essere solo in classe o in 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 camera oppure ti devi bendare così non puoi farti suggerire non puoi copiare allora lasciamo perdere queste cose sorridiamoci la didattica è fatta da una situazione vissuta insieme nello stesso tempo e nello stesso luogo è fatta di progetti di relazioni costruite insieme di esperienze vissute di lavoro anche attraverso la rete la rete è nata per comunicare per collaborare per cooperare e per fare ricerca quindi la rete può arricchire potenziare moltiplicare le esperienze educative e lavorative però per questo deve cambiare anche il ruolo del docente che è un po' meno il depositario del sapere ed è un po' più uno che organizza laboratori che fa ricerca insieme ai suoi allievi questa parte ve la lascio leggere ma Cerini nella conclusione della linea guida per lo 06 parla di linee educative a distanza non parla più di didattica a distanza e io ricordo che è necessario crescere ma crescere a scuola ma anche crescere fuori dalla famiglia ma anche crescere in altri contesti quindi in realtà uno che sta a casa tutto il giorno ed è controllato da due parti didattica a distanza genitori e dall'altra parte i docenti evidentemente non è tanto libero di crescere allora concludo abbiamo di fronte tre scenari cioè la didattica a distanza viene di nuovo vista come la salvatrice diventa la scuola di domani e anche solo dell'anno prossimo io spero che duri un anno e nei limiti che abbiamo detto secondo scenario tutto torna come prima cioè si ritorna a quella normalità che era una scuola che non ci piaceva e adesso poi rispondo a Salvatore Iozzo la terza cosa che vi sto proponendo è quella di interrogarci su quello che abbiamo vissuto sui problemi sui pericoli su tutte le cose che abbiamo detto ma anche su quale scuola vogliamo per il futuro cioè con quale metodologie didattiche di riferimento siamo nell'ambito del costruttivismo che magari non è una pedagogia è una metodologia scolastica ma è una scuola attiva cooperativa in modo laico senza sposare una diciamo una pedagogia piuttosto che un'altra le prime due soluzioni sono delle scorciatoie pericolose e delle letture sbagliate della nostra esperienza e del ruolo che ha avuto nella nostra esperienza il digitale la scuola non è tutta dentro o fuori la scuola tutta dentro o tutta fuori è una situazione mista permeabile al fuori articolata contestualizzata come le esperienze però ci vuole una politica dell'educazione pubblica arricchita dalle digitale che tracci la via anche dal punto di vista politico qui vedete vedrete insomma perché saranno pubblicate le riflessioni sulla digitale come ambiente di apprendimento io riprendo solo un attimo il post di Salvatore Iozzo che vi leggo credo sarà difficile fare una didattica digitale a distanza in quanto dovremmo rendere interessante la didattica a distanza con infinite risorse del web con una profonda ricerca e studio ma credo che con molta attenzione con una grande capacità d'utile dei docenti saremo un gruppo di lavoro molto forte avendo consiglio d'istituto mi devo scollegare un grande ringraziamento per tutte le informazioni alla prossima occasione allora io direi che concludiamo perché siamo fuori tempo massimo la scuola ha dimostrato di essere come partendo dai docenti perché sono stati i protagonisti e lo vedrete nell'indagine che vi lascio a disposizione per metà i problemi sono stati risolti a livello collegiale pochi collegi dei docenti un po' più il dirigente scolastico affiancato da animatori digitali affiancato da docenti più esperti tecnici e così via quindi una parte ha funzionato diciamo la scuola come istituzione ma per metà i singoli docenti o i singoli docenti in accordo con i loro colleghi se la sono cavata per i fatti loro questo è successo quest'anno e l'augurio che vi faccio in conclusione è quello che non si ripeta l'anno prossimo ma che si parta da una situazione in cui abbiamo con il modesto contributo che ho cercato di dare io avevamo potuto riflettere su che cosa è successo e quindi come meglio attrezzarci l'anno prossimo per avere una situazione più stabile con meno problemi più diciamo vivibile per noi e più vivibile per i ragazzi e per le famiglie io vi ringrazio di cuore per la partecipazione a questo webinar vi ricordo che saranno pubblicate le tre presentazioni che abbiamo visto e entro qualche giorno tutti i documenti e i materiali e voglio dire che il discorso continuerà il prossimo anno da quello che ci siamo detti con la tecnica della scuola sempre all'interno della stessa rubrica e quindi avremo modo di riflettere vedremo già da settembre questo lo dobbiamo definire con la tecnica della scuola che ha da settembre a ottobre su come impostare quindi come affiancare il vostro sforzo di avere una scuola migliore grazie complimenti per il lavoro che avete fatto e grazie della attenzione buon lavoro a tutti grazie a tutti